alve alve sono nulla sono l'ora no però fra un pochino girano c'era uno che era proprio a pescare accanto ne prese una quarantina oggi si vede sono fermi ma è dell'ora non c'è bisogno io ho tanto a pasta a pasta e provare a pescare più da più qua perché secondo me boh lo so da che ti dino ti dà no non ti dà no ma volevo provare perché volevo provare ho detto fa una prova è un discorso mio a recupero a recupero un pochino a recupero ho provato a lanciare però se non si sta un po' in un silenzio non si figlia nulla capito? bisogna anche la situazione non è che i pesci hanno i giorecchi ora io volevo fare volevo fare come capito? no non capito no perché poi io non è che tu ci stai a pescare ci sono io sicché stai calmo voglio dire non è perché tu sei nervoso perché tu prendi un cazzo non sei nervoso e devi fare con me se tu sai pescare da che lo stai a casa no allora il discorso è che uno deve fare casino ma gente se non sa andare a giro a fare le cose se non sa fare per di farsi lavo gli altri allora io non hai tutto e ci ho messo io non hai tutto ora non hai tutto 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 ma allora ho 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 non hai tutto perché Grazie a tutti